Mi diceva un medico questa mattina che nel tempo del Covid stava morendo una persona e gli dice mi prenda per mano che sto morendo e ho bisogno della sua mano. L'eroico personale sanitario che ha fatto vedere questa eroicità nel tempo del Covid, ma che rimane l'eroicità tutti i giorni. Ai nostri medici, infermieri, infermieri, volontari, un applauso e un grazie grande.